In questa video guida parliamo di stendini elettrici. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Gli stendini elettrici sono dei comodi strumenti tramite i quali stendere la biancheria in casa e contemporaneamente asciugarla. Esteticamente, lo stendino elettrico è uguale ad un normalissimo stendino. Proprio per questa sua caratteristica, è possibile trovare in commercio tantissimi modelli di stendino elettrico, a castello, a tendina, richiudibile e così via. Per poter utilizzare lo stendino elettrico non dovremo collegarlo ad una presa della corrente e poi regolarne la temperatura tramite l'apposita manopola. Alcuni stendini elettrici, inoltre, possono essere posizionati anche fuori casa quando la giornata è più mite. In questo modo possono essere utilizzati anche come se fossero dei classici stendini da esterno.